Maurizio Fugati, dopo l'ultima bocciatura dell'Unione Europea, secondo lei dove si possono trovare i soldi per pagare o evitare di pagare la seconda rata del LIMU? La seconda rata del LIMU costa circa 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo. La spesa pubblica totale del nostro paese è circa 800 miliardi. Quindi se non siamo in grado di trovare 2 miliardi su 800 miliardi vuol dire che manca la volontà di reperire i fondi per non aumentare l'IMU. Dopodiché, se vogliamo essere più specifici, ci sono 130 miliardi negli 800 miliardi che sono le spese per l'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. Secondo noi, incidendo su queste voci, i 2 miliardi per non aumentare l'IMU, 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, si possono tranquillamente trovare. C'è la volontà politica secondo lei? Ma è come quando era aumentata l'IVA. Non si aumentò, o meglio, si aumentò l'IVA di un punto dal 21 al 22 perché il governo riuscì a trovare un miliardo. Il governo non riuscì a trovare un miliardo su 800 miliardi di spesa pubblica. È la stessa questione, è una volontà politica, è una questione politica che questo governo non riesce ad andare ad incidere sui tagli delle spese. Visto che è nominato l'IVA, sono usciti i dati che sono diminuiti i consumi. È colpa dell'aumento dell'IVA? Diciamo che è colpa di una situazione generale, di crisi, che anche l'aumento dell'IVA poi è andato a farsi sentire. Il fatto però grave è che sul 2014, oggi chiudiamo il 2013 con un meno 1,8 di PIL, il PIL che è calato dell'1,8%. Sul 2014 le previsioni del governo parlavano di un 1,1 di crescita, adesso l'Istat e anche la Commissione europea cominciano a parlare di uno 0,8. Macroeconomicamente non si può parlare di crescita finché non supera il 2%, cioè un paese cresce quando la crescita supera il 2%. Anche se fosse lo 0,8, però il rischio è che poi sia in calo perché le previsioni sono sempre più ottimistiche della realtà, è ancora una crescita debole. Quindi l'ETA può farsi bello quanto vuole, dire che arriverà la crescita, intanto la crescita che arriverà è minore di quella prevista e il rischio è che poi sia ancora minore di quello che oggi prevediamo.